Ok, quindi diciamo che io ho compreso finalmente che per quanto riguarda la mia attività, sia che io mi occupi di education, sia che io abbia un'attività che non c'entra niente con l'education, diciamo che a un certo punto ho compreso che devo sviluppare dei nuovi asset che possano essere dei corsi, dei videocorsi, dei prodotti informativi, eccetera, eccetera. E a un certo punto per cui arriva la domanda del da dove inizio, che cosa faccio, quale argomento tratti, eccetera, eccetera. E tu ugualmente nella tua formazione, in quello che tu divulghi, utilizzi il concetto dell'ikigai. Sì, mi piace molto. Mi piace perché è giapponese, orientale. Io non sono giapponese, ma mio padre è nato a Shanghai, devi sapere, dovete sapere. Mio papà è nato a Shanghai, la mamma di mio padre, mia nonna era della Manciuria, quindi diciamo io ho respirato quest'area orientale. Ora voi ce l'avete con i cinesi, chiaramente, soprattutto quelli di Wanga, però, devo dire, i miei non sono stati così cattivi. Però diciamo, l'ikigai, se lo vuoi far vedere, è molto interessante. Sembra una cosa un po' da donne che non hanno un cazzo da fare, che stanno lì, che devono trovare il punto. Non iniziamo in questa maniera, Andrea, che già... No, nel senso, no, si è avvicinato, non voglio dire, nel senso, si è avvicinato questo concetto di ikigai, molto tipo il libro di Maricondo, quello su come gestire la casa, eccetera. In realtà, secondo me, è veramente una guida illuminante e anche molto semplice, cioè, alla fine, l'ikigai è lo studio di queste zone blu del mondo, degli ultracentenari, eccetera, eccetera, e hanno tentato di capire, ma perché questi vivono a più a lungo? Solo perché si mangiano le rape rosse, eccetera, oppure perché in Sardegna, in Giappone, a Okinawa, eccetera. E hanno fatto un'analisi, hanno visto che sono persone che hanno trovato questo punto di equilibrio, che è il centro di questo quasi fiore di loto, no? Questo nikigai. Ed è il punto di equilibrio fra quattro cerchi, quindi è il primo in alto, è quello che dice dove vivono le tue passioni, quello che ami fare, poi c'è, scusate, rispetto al video, quello che sono le tue competenze, dove hai un talento, quello che tu hai acquisito come informazioni, poi c'è qualcuno ti pagherà per quello che fai, quindi è il tuo lavoro, la tua professione, e poi c'è il mondo ha bisogno di qualcosa, cioè il mondo al di là di quello che tu ami fare, che ti piace fare, di cui sei competente, ma di cosa ha bisogno ora? Cioè come possiamo aiutare le persone, il pianeta, come possiamo evolverci, crescere, avere una vita ricca, viva, piena di significato. E quindi insieme, se tu riesci a mettere, ora tu dici ma che c'entra con un videocorso? C'entra nel momento in cui tu puoi fare un videocorso su qualcosa per la quale hai una passione, ma magari non sei particolarmente competente, però lo racconti mentre mano a mano acquisisci le competenze, oppure sei un esperto di start-up, di marketing, di produzione video, oppure comunque lavori, non so, in una società finanziaria, aiuti le imprese, gli imprenditori a fare i business plan, a raccogliere i fondi, e poi hai un tema che oggi appunto le persone hanno bisogno di capire come lavorare, come andare online, come digitalizzarsi, come trovare un punto di equilibrio, come gestire una famiglia e un sistema scolastico universitario scosso da questa pandemia. Quindi sicuramente se hai un dubbio su quale argomento, perché magari ne hai tanti, probabilmente questi quadranti ti aiutano, ti aiutano a scegliere quale idea, su quale prodotto puntare. Questo parte da te, certo, e poi devi fare una ricerca su Google, devi essere bravo a capire quali sono i trend, che cosa le persone stanno cercando su Amazon, piuttosto che su YouTube, quindi devi essere un po' ovviamente sgamato anche dal punto di vista del marketing digitale, se no fai una cosa stupenda, ma che piace solo a te e a qualcuno che abita a Okinawa. Insomma, ecco, non so, per più.